Storie di persone, come tante nel mondo, la famiglia, un lavoro, la quotidianità, che improvvisamente diventa drammatica, tutto intorno crolla a causa della guerra, di una persecuzione, della privazione e della libertà, costringendo la fuga dalla propria terra, dalle proprie radici, dagli affetti più cari. Storie che lasciano ferite profonde, cicatrici a volte insanabili, che possono però essere almeno in parte lenite grazie alla solidarietà. Nasceva da questi presupposti nel 2001 lo SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, con il protocollo firmato dal Ministero dell'Interno Italiano, insieme all'Anci, l'Associazione dei Comuni Italiani, e all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nel frattempo lo SPRAR da un paio di anni si è trasformato in SIPROIMI, cambiando acronimo ma restando nella sostanza praticamente invariato. E soprattutto molte persone hanno ricevuto un reale e concreto sostegno da questo progetto, anche nella nostra regione, ad esempio nell'area di Senigallia, dove da molti anni l'inserimento delle persone più fragili nel territorio e nelle comunità è affidato alla Caritas, che conta una lunga storia di impegno volto all'attenzione verso chi più ne ha bisogno. Dietro questo progetto ci sono tante storie, come quella di Ali, che nel suo Afghanistan aveva un ottimo lavoro da interprete, minacciato dai talebani, ha dovuto lasciare la sua terra insieme alla moglie e un figlio, sfruttando un corridoio umanitario. Arrivato in Italia accolto dallo SPRAR, si è perfettamente inserito ed oggi gestisce un minimarket a Senigallia. Tranne il progetto SPRAR, io forse adesso non avevo questo lavoro, perché è importante il supporto per i primi anni, che tu sei in un ambiente nuovo, questo è molto importante, che ti aiutano. Io ho cinque anni lavorato con il vostro esercito, così ho conosciuto alcune culture, così già avevo abitudini, ma qui più calmo. Adesso almeno lo so che domani, dopo domani, non fanno espressione avanti da negozio, che perdo uno tutto durante una notte, ma adesso sì, è casa mia. Dopo il primo approccio da parte del comune di Senigallia, che ha affidato la gestione dei beneficiari alla Caritas, l'esperienza di accoglienza diffusa del progetto Siproimi si è allargata ai comuni, che fanno parte dell'unione delle terre della marca Senone, con una filosofia, un'idea culturale alla base, ben definita. La filosofia generale è quella di una partecipazione intanto volontaria dei comuni a questo progetto, nessuno ci obbliga a poterlo fare, ma i comuni hanno deciso di poter aderire. La seconda motivazione mi pare importante è quella del decentramento dell'accoglienza, quindi i progetti prevedono la possibilità di accogliere persone che hanno riconoscimento di uno status internazionale di protezione su più parti del territorio, in modo che possono essere meglio inseriti. Il terzo elemento importante, dal mio punto di vista, è la collaborazione che si è stabilita da una parte con gli enti gestori, per Senigallia il più grande è la Caritas, ma anche con altre cooperative, e poter aver messo in moto le reti territoriali che possono portare ad un'inclusione che non sia contrappositiva con la comunità. Questo è un progetto che abbatte molti luoghi comuni, perché si accolgono persone che vengono da situazioni veramente drammatiche in giro per il mondo, e soprattutto si accolgono con un bel concetto di integrazione. Le persone non si accolgono e basta, ma si avvia un percorso di integrazione finalizzato proprio a dare a queste persone la speranza per il futuro, cioè sono loro che devono diventare protagonisti in una nuova terra e darsi da fare per integrarsi al massimo. Un progetto che si sviluppa su più piani, quello sociale, integrativo, formativo, professionale, umano, con problematiche sempre nuove ed un'altrettanto costante ricerca di soluzioni. Lo sa bene chi lavora direttamente sul campo, come appunto gli operatori della Caritas di Senigallia. Il progetto SIPROI mi prevede una parte di fondi dedicati unicamente all'integrazione e al supporto all'autonomia dei beneficiari. Questo nelle azioni pratiche si traduce in la possibilità di finanziare dei corsi di formazione, di supportare i percorsi verso l'autoimprenditorialità dei nostri beneficiari e l'attivazione di tirocini formativi presso le aziende del territorio, e che quindi i beneficiari diventano anche una risorsa per queste aziende che possono formarli e aiutarli nella loro uscita dal progetto e nella realizzazione di una vita pienamente autonoma. Un lavoro silenzioso ma concreto, come concrete sono le risposte che offre, sempre in sinergia con le amministrazioni locali alle quali il progetto SIPROIMI è in capo. Un progetto che abbiamo seguito chiaramente, come è giusto che sia, insieme alla Caritas, ma insieme a tante persone, un progetto di accoglienza che oggi vede bambini, mamme integrate nella nostra comunità. Un bel progetto in quanto numeri contenuti e quindi ecco che come comunità siamo riusciti a dare la massima attenzione, seguirlo da vicino con tutte le difficoltà, perché chiaramente richiede l'accoglienza un grande impegno, un grande investimento di tempo e sicuramente un'apertura da parte dell'intera comunità. Indubbiamente l'accoglienza è qualcosa che arricchisce molto la nostra città e soprattutto è un impegno sociale che deve essere mantenuto. Ovviamente l'attività che viene svolta dalla Caritas è un'attività primaria che ci permette anche di poter avere un aiuto reale e per questo noi come amministrazione saremo sempre vicina a questa associazione che del volontariato ne fa appunto una parte prioritaria. Noi oggi dovremmo essere tanto bravi e lo sforzo che facciamo nel nostro piccolo comune è di accogliere, nel senso di non raccogliere bassa l'etimologia del termine, no accoglienza, ma cercare di fare in modo che la ricchezza delle popolazioni che arrivano sposi la ricchezza nostra e insieme, grazie a una contaminazione, si arrivi a creare una società migliore. Al centro di questo progetto ci sono persone che sono state costrette a scappare perché la loro vita si trovava in serio pericolo. Non solo i migranti che affrontano il viaggio in mare nei barconi, quanto famiglie, donne e uomini che arrivano nel nostro paese attraverso canali protetti e sicuri. Ci sono prima di tutto gli esseri umani, con le loro storie e con la loro dignità. L'impegno della Chiesa che in accoglienza potrebbe adesso risultare un po' sorprendente, che è quello che sto per dire. Prima che dalla fede nel Signore e in fedeltà al Vangelo nasce dalla considerazione molto umana, molto umana, che ogni persona ha una propria dignità ed è proprio degli umani accogliersi, accogliere soprattutto chi per determinate circostanze della vita si trova in difficoltà e non riesce veramente a vivere con dignità. La fede, appunto, la fede nel Signore, il samaritano buono, dà ulteriore supporto a questa considerazione. E al centro c'è un progetto, quello che abbiamo definito di accoglienza diffusa, che parla non solo di umanità, ma anche, o forse soprattutto, di civiltà.